Dopo l'allenamento di stamattina ho le gambe a pezzi, sono distrutte, sono praticamente marmo però sono preso bene e adesso vado a fare un piccolo foto shooting con un ragazzo molto bravo e ve lo presento tra poco ecco lo qua ciao 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 siamo pronti? dopo due semafori e un'ora di viaggio da segno ciao 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 buona fisioterapia grazie alla prossima ciao ciao giornata finita sicuramente sono uscite delle belle foto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ringrazio ancora tantissimo Filippo per il suo tempo e niente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao